eeree Ai 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 mi sa che questa intervista non te lo dovevi fare comunque, All in! è che All in! 9 a 2 finalmente risorgono queste All in perchè le avevo dimenticati nello stesso campionato si sono viste finalmente in questa clausura vinciamo comunque motivando la boccia Di Vito ha fatto doppiette, ha fatto l'Inter School Allora, lui l'ha mai segnato Però vi dovessi fare una boccia vicenda Perché avete fatto tutti i doppietti e nessuna tripletta Facciamo la boccia da Delfio Che fa finta di avere la branchia Vedo un ritorno, carollo Scusa, scusa, confuso l'ore col piomo Ma non vogliamo fare quell'intervista Comunque alla fine Jolin era importante vincere E poi avete vinto, e che vittove? 9 a 2 Perdevamo la munizione di Burge Quanto è lo stato? 0-3 o 0-3? 0-3 Avevamo tutta la munizione di Luca che si ammazzano con lui E' un grande ponce pure che gioca sempre bene E' il nostro mister! Comunque quelle due sconfitte consecutive vi avevano un po' Un po' di moralità Però ogni anno... Anche l'anno scorso... Anche l'anno scorso... Anche l'anno scorso... E avevamo meno 0-3 Quest'anno due partite 0-3 Quindi alla fine è un passo avanti Un passo gigante Dicevo pure che mancava l'anninetti Rido dai! Rido dai! Rido dai! Rido dai! Rido dai! Rido dai! Noi dobbiamo migliorare il corso dello scorso che era settimo Quindi in sé! Quindi playoff! Minimo! Ma è il minimo! Attenzione! E poi voglio dire di Giovanni che alla prossima... Ah di Giovanni! E alla prossima! Caluta! Atomic! Avete gli Atomic che hanno perso il derby ieri contro gli Stox? Ma saranno arrabbiati eh? Espolsi! Guardiamo che hanno fatto dei pulso! Guarda! Mi montate la testa! Mi sono un po' montati la testa secondo me! Si! Si scarsa di qua! Invece voi piedi per terra! Continuate il vostro campionato! Vabbè! Vinciamo solamente il campionato! Migliori in campo? Dio! Per forza! Per forza! Per forza! Ok ragazzi! Ci vediamo alla prossima! Grazie! Ciao! Ciao ciao!